Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi voglio parlare oggi di quattro libri, quattro letture che ho fatto all'inizio dell'anno ad adesso. Quindi oggi è l'8 gennaio. Io ho letto complice il tempo abbastanza libero, insomma, le vacanze, dove non ci sono impegni, non ci sono rari. Sono riuscita a leggere ben quattro libri, due dei quali sono veramente tre, forse, brevi. Veramente brevi. Allora, ho iniziato l'anno con la lettura di Bongardner, Paul Oster, un libro nuovo uscito, l'ultima opera uscita di Paul Oster. Sto leggendo anche, come sapete, 4, 3, 2, 1 con il mio GDL che è Caboclover, me lo porterò dietro per un po' di tempo. Questo invece me lo sono divorato. L'ho scelto anche come lettura per la challenge con Valeria. Se vi volete unire alla challenge, leggiamo a colori. E il mese di gennaio è stato bianco. Abbiamo scelto il libro dalla copertina bianca. Io ho scelto questo. Allora, ve ne volevo un po' parlare. Qui si parla della vita di Seymour, è molto difficile pronunciarlo, Bongardner. Si parla della vita comune, della vita ordinaria di questo signore sulla settantina, se non di più. Ma lui si parla, oltre che della sua vita, del quotidiano, la perdita di sua moglie Anna. E lui cercherà di convivere con la sua assenza, anche se non è per niente facile come potrete immaginare. Questo signore è un uomo settantenne, un professore universitario con una vita tranquilla. E ci parla di questa grande perdita di sua moglie Anna. Questo libro si legge proprio per il piacere di leggerle. Non si legge per capire dove andrà a parare, per scoprire la fine. È proprio un libro che ti dà quel piacere mentre si legge. Non so come spiegarvi. Come scrive Paul Oster scrivono in pochi, secondo me. Il fulcro del romanzo appunto sta nel ricordo, la nostalgia. È un libro profondo, una storia intensa, molto introspettiva. Io ho appuntato questo. La solitudine uccide, ti divora. Un po' alla volta, finché non resta più niente. Una frase vera, una frase forte, breve ma intensa. Poi ci sono, troviamo anche i racconti di sua moglie Anna, il ricordo che aveva sua moglie Anna del marito. Siccome si sono conosciuti, insomma, racconta la loro storia. Per me è stata una bellissima lettura. Avrei voluto che continuasse ancora un per un po'. Molto breve, l'ho letta veramente in pochissimi giorni. Un libro di 150 pagine. Però secondo me è da leggere. Poi ho letto, questo in qualche oretta, me lo sono letto, La strega di Shirley Jackson, raccolta di quattro racconti che si leggono appunto in un battibaleno. È la sua ultima opera questa e questi racconti appunto ti terranno incollati alle pagine. Ti faranno rimanere interdetta. Io ho avuto quella sensazione lì, con quel punto interrogativo, no? Che ti fa riflettere, ti fa fare tante domande e che ti dà più che altro, ti lascia libera interpretazione. È questo che io amo molto di questa autrice. Per me lei è sempre una grande sorpresa. In questi racconti che sono La strega, L'ubriaco, Charles, pochi altri, vediamo un po', non l'ho segnati, e Il dente. Sono quattro racconti nei quali sono presenti elementi sovrannaturali. Le prese comunque con la quotidianità, con il quotidiano, con le vicende che abbiamo tutti. Non capiremo mai se l'autrice sta raccontando qualcosa di vero o di immaginario, se ci sta raccontando la realtà oppure l'immaginazione. E questo, secondo me, è il bello di questa raccolta di racconti. Un tema centrale che ritorna è quello della casa, dove tutto è inquietante, comunque sia tutto inquietante in questi racconti. E dove personaggi in questa casa acquistano e perdono la loro identità. Vi ho recensito tutti questi libri su Instagram. Questa raccolta di racconti. Poi, altro libro che ho letto, stupendo secondo me, che mi ha fatto conoscere, Annie Arnaud, l'altra figlia. Anche questo me lo sono divorato in una giornata, in un pomeriggio al mare, in poche ore. L'ha letto anche mia mamma, poi dopo in poche ore. Veramente, anche questo è breve, è un memoir, questo, di 81 pagine. Un'autobiografia, un memoir, dove la Arnaud ci racconta, scrive la lettera, una lettera a sua sorella, che è deceduta ormai molti anni, da quando ne aveva sei, per una malattia. La sorella lei non l'ha mai conosciuta. Il bello è questo. Lei si sente in colpa per questa morte della sua sorella. Io ne sono uscita devastata. Mi ha assorbita molto questa lettura come una spugna. Mi sono sentita poi in una fase di smarrimento. Ho amato la scrittura. La scrittura di questa autrice è incredibile. Parole decise, parole commoventi, ma comunque coinvolgenti, parole toste, che mi sono entrate dentro e fanno fatica a uscire, sicuramente. Come un missile mi è entrata dentro e continuerò comunque a leggere tutto di lei. Io sto recuperando piano piano, ho molto già a casa da leggere di suo e continuerò. Dentro queste pagine è presente tutto il suo senso di colpa che l'accompagnerà poi appunto per tutta la vita di esistere al posto della sua sorella. una lettura intensa di quelle che piacciono a me. Oltre questo senso di colpa troviamo l'orgoglio, troviamo le curiosità taciute e anche le gelosie, il peso del confronto e il privilegio di essere amata. È bellissimo, leggetelo se non l'avete letto. Ci racconta anche della sua famiglia, il rapporto che aveva con la madre. Veramente è molto difficile da raccontare questo libro. All'interno troviamo anche foto vere, ovviamente, della casa dove abitava. Eccola qua. Mi è rimasto veramente dentro. E poi l'ultimo libro, il più forte, il più crudo che ho letto è stata questa, non è una raccolta di racconti, una raccolta di vicende, di femminicidi, i femminicidi che hanno sconvolto l'Italia, di Bruno De Stefano. Questa è una nuova edizione aggiornata. Ci sono tutti i nomi, cento nomi di donne, di giovani donne, di giovani ragazze, bambine uccise da chi diceva di amarle, anche dai, non solo dai mariti, dai compagni, ma anche dai padri. È una lettura devastante, questa ancora più devastante dell'altra, per ricordare, per non dimenticare questi nomi di queste donne, uccise per gelosia, per possessione, per squilibri mentali, per amori malati, per vendette, per interessi economici. E tutto questo ha trasformato questi uomini in killer spietati, ma secondo me, io mi sembra, sono incredula, nel senso che secondo me, già di fondo queste persone hanno dei problemi, hanno dei problemi che non hanno affrontato, anche problemi per quanto riguardano, si portano dietro dall'infanzia. Avrei voluto più approfondimento psicologico? Questo sì, perché comunque sia, sono capitoli brevi, vedete, ci sono nomi di queste donne, viene raccontata la vicenda, in breve comunque sia, però viene raccontata nei minimi particolari, nei minimi dettagli. Infatti, se siete facilmente impressionabili, questo è un libro che non fa per voi, perché io ad ogni capitolo dovevo chiudere il libro e prendere una boccata d'aria, perché mi si prendeva questo nodo in gola da buttare giù, mi rimanevo proprio senza fiato, perché mi immaginavo proprio queste scene. Non è stata una lettura semplice, ma è stata la lettura più forte, indubbiamente, secondo me sarà una di quelle letture più forti che avrò fatto in questo anno, nel 2024. La giustizia italiana, stendiamo un velo pietoso, perché veramente non sto qui a parlarvene, la conoscete tutti. Come è possibile dare solo, neanche l'ergassolo, alcuni di questi, ma solo pochi anni di galera, è inconcepibile secondo me, è inconcepibile. Mi vengono i brividi a pensarci, perché qui c'è scritto proprio quello che hanno fatto questi uomini a queste donne. Non ve lo voglio raccontare, insomma alcune di queste vicende di Cronaca Nera sono state ascoltate, sentite più volte nei vari telegiornali, ma alcune di queste storie io non ero al corrente, non le conoscevo e chissà di quante ancora non ne sarò al corrente, perché non sono solo queste cento donne a non esserci più per femminicidi, ma sapete quante ce ne sono? E io vi dico parlate, parlate, denunciate, alcune di queste lo hanno fatto, ma la giustizia italiana non ha saputo prendere in tempo la cosa in mano, però comunque bene sia sempre denunciato, alcune sono state in silenzio e questo gli è certo contro, hanno pagato questo silenzio ecco così, con questa fine, però bisogna parlarne, bisogna denunciare sia violenze fisiche che psicologiche, questo, e il libro per ricordare le vittime, casi più noti avvenuti nel nostro paese, una scia di violenza che non si ferma e che è impossibile ignorare. Ecco, ci tenevo a parlarvene. Questi erano i quattro libri letti fino adesso, vi voglio anche far vedere libri con lettura, ieri ho appena iniziato, Letty Fox di Christina Stead, non so pronunciarlo, e devo dire che ho già letto un'ottantina di pagine da ieri sera e mi sta prendendo, mi sta piacendo anche la scrittura, poi è bello perché davanti abbiamo tutto l'albero genealogico della famiglia, magari io vado a vedere senza dovermi segnare nulla, si parla di questa giovane ragazza, Letty Fox di 24 anni, del suo rapporto con la sua famiglia, al momento, ha parlato della madre, del padre, poi più che altro del suo carattere, la sorella, del suo carattere scontroso, del suo carattere non semplice e del suo rapporto non facile con gli uomini. Una ragazza contro tendenza, diciamo, che vuol trovare l'uomo stabile, il matrimonio, l'uomo per la vita, però nel frattempo si butta in tutte le braccia di tutti gli uomini e senza una casa non ha un lavoro, insomma, poi ve ne parlerò via via bene, è un bel libro anche questo, un bel mattone di più di 700 pagine, però si legge, lo sto trovando davvero scorrevole, mi sta piacendo, scrittura, nei minimi particolari racconta molto, molto di questo personaggio, di questa donna, questa ragazza depressa, giovane, comunque voglio andare avanti e poi ve ne parlerò. Poi sto portando sempre avanti, piano piano, 4-3-2-1 di Poloster, con il mio GDL Cacab Clover, alcuni l'hanno terminato, altri come me saranno in sua compagnia ancora per molto, io comunque sono arrivata a pagina 558, oltre la metà e devo dire che Poloster è anche qui. L'ho ritrovato molto, ecco, anche qua. È un concentrato questo, di 4-3-2-1, diciamo, nel senso che lui ci mette la sua penna, si capisce, ecco, se avete letto 4-3-2-1 lo riconoscerete anche qui, qui comunque è molto, molto più concentrato ovviamente, qui è molto prolisso, però a me non dispiace, in entrambi i casi, anche qui, è bello leggerlo, non lo so, mi piace proprio la scrittura, la sua storia, queste storie, mi sono affezionata molto al personaggio Ferguson, io lo sto leggendo di pari passo, proprio non per storie, ma proprio come il libro. Poi ho ripreso a leggere anche questo, vorrei terminarlo, vediamo, non so se in questo mese, non mi interessa quando, però questo anno, questi libri vorrei terminare, di Yalom, psicoterapia esistenziale, sono arrivata a pagina 324, anche qui, oltre la metà, e questo è un saggio, dove Yalom ci parla della morte, qui sono arrivata al capitolo responsabilità, di come le persone siano o devono essere responsabili, possono essere contenuti banali, ma non lo sono affatto, anche la morte intesa, ma qui Yalom è bravissimo a approfondirla, in tutti i suoi aspetti, in casi poi clinici, ti vediamo piano piano, mi piace, mi piace molto Yalom anche. E poi un altro mattoncino che sto portando avanti, in America, Viaggi senza John Steinbeck di Girmark, qui parla dell'America, dell'America un po' come sparire qui, non l'America che conosciamo tutti, ma anche i paesini rurali, i paesi dove Steinbeck ha viaggiato, sono arrivata la parte quinta, opuscolo per il reclutamento degli immigrati europei, ci parla infatti degli immigrati, ma anche, ho appena iniziato questo capitolo, della parte un po' più rurale dell'America, sono arrivata all'incirca qui a metà, proseguirò via via, e una bella lettura anche questa, mi piace molto quando si parla dell'America. Vi volevo segnalare che la Mac Musa, ve l'ho già detto anche su Instagram, ma ve lo dico qui, ha un canale Telegram dove lei ci porta con sé nei suoi viaggi, ci consiglia libri, letteratura americana, mi sto segnando di tutto e di più, e lo sto trovando veramente un tesoro, un bene prezioso, se amate anche voi l'America, la Mac Musa e tutto ciò che riguarda questo, vi invito a iscrivervi al suo canale Telegram, ve lo lascio poi magari nelle info, vediamo un po', insomma chiedetemelo se vi può interessare. E poi, cosa voglio leggere? Allora, io mi sono fatta una sorta di TBR, una sorta di TBR, una sorta, nel senso ho scritto i libri che voglio leggere questo mese, alcuni li ho letti, come l'altra figlia e Bon Gardner. Ho messo, per il giorno della memoria, il 27 gennaio, vorrei leggere questo, La memoria rende liberi, di Enrico Mentana e Liliana Segre. L'altro anno ho messo un libro di Primo Levi, no, qual'era? Se questo fosse un uomo, di Primo Levi, bellissimo, vabbè, da leggere indubbiamente. Ho messo questo, di Liliana Segre, di Comentana, la vita interrotta di una bambina nella Shoah. Io l'ho inserito, poi vediamo se riuscirò a leggerlo. Sono le memorie queste, le testimonianze, in un libro curudo e commovente, rimpercorrendo l'infanzia, il legame col suo papà, le percussioni razziali, il lager, la vita libera, il contrastato rapporto con l'identità ebraica, la depressione, la gioia ritrovata grazie all'amore del marito a tre figli. Un racconto emozionante, non vedo l'ora di leggerlo, di questa bimba di otto anni Liliana, quando nel 38 le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua famiglia. Vedremo un po' se riuscirò. Vorrei portare avanti anche, vedremo, non so, non l'ho inseriti però, questi due bellissimi guide letterarie, guide da viaggio, The Passenger, California e Palestina. La California sono un po' avanti, ho iniziato anche a leggere la Palestina. Poi, che altro? Voglio leggere l'albero della danza di Hergrave, questa autrice che ha scritto, questa autrice che ho conosciuto nei racconti dei fantasmi dell'inverno, letto a dicembre, è stato il racconto più bello, uno dei racconti più belli, quello dell'Hergrave e quindi voglio leggere proprio, io ho questo, non ho guardo dopo la tempesta, quindi voglio leggere prima possibile l'albero della danza. Vedremo un po' se anche qui mi piacerà. Ci narra di una famiglia e dei suoi segreti, ricostruendo con la sua impeccabile prota una straordinaria vicenda storica che lumila l'ingrato testino toccato spesso alle donne nel corso della storia. Una storia di passioni, prodibite inganni, insomma, deve essere molto bello, secondo me. E poi, che altro voglio leggere? Ah, Sostiene Pereira, di Tabucchi, sicuramente lo leggerò perché Sostiene Pereira è il libro, ce l'ho di là, il libro che leggerò con il mio GDL questo mese, quindi dovrò leggerlo, assolutamente. Poi io mi fermerei qui, avevo detto che volevo leggere un libro di Jessica Roloz, questo qui Dammi il tuo cuore, questa raccolta di racconti, ma veramente non lo so. Troppi libri voglio leggere, troppi libri ho in lettura, quindi, però sono molto soddisfatta che già dal primo dell'anno ad oggi, una settimana, in una settimana io, in otto giorni, abbia letto questi quattro libri. Non mi fate domande come fai, ma non dormi, nel senso mi è stato detto, vabbè, logicamente scherzando, ma nel senso questi due libretti sono veramente piccoli, si leggono in poche ore, quindi è come se io abbia letto un libro, sto due, e poi nelle vacanze si ha del tempo infinito, adesso ritornerò un po' nella mia routine, nelle mie cose, nei miei impegni, nella casa, in tutto, e quindi il tempo sarà meno, però, sapete, leggere è una delle mie priorità, quindi speriamo di continuare, non dico così, ma insomma, di continuare, continuo a leggere. Poi, se leggo un libro, se ne leggo due, venti, tre, a me non mi interessa, nel senso, il numero a me non mi interessa, è quello che i libri ti danno, l'arricchimento che ti danno, vi volevo far vedere anche un libro che ho già abbandonato, il primo libro che ho abbandonato nel 2024, eccolo qui, l'anomalia di Hervé Letellier, l'incitore del premio Goncourt, io sono arrivata a oltre 100 pagine, ma a me non mi prende, non mi piace la scrittura, non lo so, non ci capisco una mazza, è troppo confusionario, magari potevo continuare un altro po' e vedere, magari mi poteva piacere, non mi va, perché ho tantissimi libri, io lo scambio, lo vendo, fatemi sapere se siete interessati, poi nel mio GDL le altre mie amiche mi hanno detto, lascia perdere, perché più va avanti e più si parla del nulla, quindi ci rinuncio proprio completamente e vediamo un po' che fine farà questo libro, poi è un'opinione personale, ovviamente, magari c'è anche il che è piaciuto molto, ma a me non ha preso, ho provato a continuare, ma non riesco e quindi avendo 100 miliardi di libri da leggere, io preferisco abbandonare senza troppe paturni e temi da minimo. Io vi saluto, scusate, non mi devo riabituare a girare video, vorrei essere anche più attiva qui sul canale, sto anche cercando di ritornare con i vlog, vedremo se riesco a farlo, ci vedremo sicuramente in un prossimo video, intanto io vi mando un bacione, vi saluto, ciao, ci vediamo nel prossimo video.